Si chiude oggi il meeting con una grande festa, la passione per l'uomo è anche musica? Sì, decisamente, la passione per l'uomo è anche musica e anche amicizia. Lo spettacolo di questa sera lo testimonia perché i musicisti che abbiamo invitato sono diventati tutti amici anche se non ci conoscevamo prima e quindi è una grande scoperta che non finisce mai. Ecco, l'amicizia ci porta già al meeting dell'anno prossimo. C'è una canzone su tutte che secondo te può rappresentare questo tema? Dovrei pensarci a lungo, beh c'è l'amico, un amico grande grande ma ce ne sono tante altre.